La giustizia in Toscana deve fare i conti con un aumento di reati anche molto gravi, come l'omicidio volontario e con la presenza della criminalità organizzata sul territorio, ma la fotografia scattata in apertura di anno giudiziario al Palazzo di Giustizia di Firenze davanti a una folta platea di autorità civili, militari e religiose ha anche delle luci, come i risultati della collaborazione con la Regione Toscana evidenziati nei loro discorsi dalla Presidente della Corte d'Appello Margherita Cassano e dal Procuratore Generale Marcello Viola, in particolare con la novità della trasmissione telematica ai giudici dell'esito dei processi di grado successivo al giudizio, con le 50 borse di studio destinate ai giovani laureati per fare pratica negli uffici giudiziari, con il servizio civile e con il recente protocollo che assegna personale della Regione agli uffici giudiziari. Passi avanti per dare risposte all'esigenza di giustizia in un panorama contrassegnato da un aumento dei processi penali, cresciuti del 24,3% in corte d'appello e dal dilagare di piaghe come la corruzione, di violenze e atti persecutori, soprattutto contro le donne e di reati ambientali per i quali la Toscana si piazza da anni sesta a livello nazionale. Due gli anniversari di segno opposto più volte citati nel corso della cerimonia, a cui ha preso parte anche il Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, da una parte i 70 anni della Costituzione e dall'altra gli 80 anni delle leggi razziali drammaticamente ricordati come monito contro ogni tipo di deriva in concomitanza del giorno della memoria.